Era il 23 gennaio del 2014 quando un movimento franoso divise in due aulette provocò l'isolamento di un'intera area del territorio. A cinque anni da quella frana nulla è cambiato in positivo ma si registrano piuttosto peggioramenti nella viabilità. Un esempio di sud dimenticato per gli abitanti del territorio che lamentano da anni la mancanza di interventi sull'arteria indegni per un paese che si definisce civile. Il comitato Ponte Nuovo presieduto da Cristiano Adesso, sostenuto nella sua battaglia per sollecitare interventi dal consigliere comunale di Pertosa Vito Panzella, ha voluto nuovamente denunciare lo stato in cui versa l'arteria stradale. Con un video pubblicato su Youtube, Vito Panzella ha sottolineato come la frana della strada statale 19 rappresenta l'esempio di come il sud venga continuamente dimenticato e di conseguenza si evidenzia come i cittadini del sud vengano considerati di serie B, dimostrando anche una poca volontà nel cercare di risollevare effettivamente le sorti dei territori piccoli e periferici. Ormai sono cinque anni, scrivono dal comitato Ponte Nuovo, che una frana costringe intera e comunità all'isolamento. È stato isolato un territorio bellissimo, luogo di eccellenze come Grotte e Carciofo Bianco, abitato da bella gente. Siamo stanchi, è una vera vergogna nazionale. Le aree interne stanno lentamente morendo, tra lo spopolamento generale non si fa nulla per arginare l'immigrazione, creare lavoro e risolvere problemi come questo. Stiamo lottando, spiegano, per la riapertura della strada e della messa in sicurezza del tratto alternativo monitorando costantemente la situazione. Non ci arrendiamo e continuiamo a lottare per la messa in sicurezza di questa importante arteria stradale vitale per il futuro della valle del Tanagro. Duro nel video Vito Panzella che sottolinea come si fa un gran parlare di valorizzazione dei piccoli centri del turismo, ma poi si fa poco. Siamo qui nel 2019, oggi 22 gennaio 2019 e la strada è ancora così e non viene messa in sicurezza. Allora, quando si parla di sud che deve essere potenziato, quando si parla di collegamenti turistici, quando si parla di valorizzare questi paesi, questo è il dato di fatto. Questa è la situazione nella quale veniamo lasciati noi in queste aree interne, con poca rappresentanza lì dove conta, come vi ho detto in passato, e con il dato di fatto che è l'abbandono, l'abbandono a se stesso. Allora, facciamo qualcosa, chiunque vede questo video, noi come Tanagro abbiamo bisogno di questa strada e di questo collegamento.